Bentornati! Allora qualche video fa vi ho spiegato il perché se siete dei compositori, in particolare di musica da film, non dovete mandare la vostra musica ad altri compositori. Tanti di voi, giovani evidentemente soprattutto, mi hanno scritto molti messaggi dicendomi fondamentalmente eh vabbè allora ci stai dando un messaggio di sconforto e di poche possibilità. Ma io ho detto che non dovete mandare la vostra musica ai compositori e lo ribadisco, ma non ho mai detto che non dovete mandarla a nessun altro. Oggi infatti parliamo delle figure a cui dovete mandare la vostra musica se volete farla ascoltare e se volete farvi conoscere. La prima figura a cui dovete mandare la vostra musica è il regista. Ancorché sia diversa la figura e l'importanza del regista se parliamo di cinema o se parliamo di televisione e o serie, è indubbio che la figura del regista prenda tante decisioni. La differenza fondamentale è che nel cinema se la musica che avete scritto piace al regista avete il 90% di possibilità che la vostra musica vada su quel film. Poi un 10% può sempre dipendere da mille cause esterne. Mentre in televisione e sulle piattaforme ci sono altri figuri, c'è sicuramente la figura del produttore, a volte dei consulenti, che hanno comunque voce in capitolo e quindi se il regista ama la vostra musica avete buone possibilità che la vostra musica vada su quel progetto, ma non ne potete essere certi finché non ce la vedrete. Quindi come fare a instaurare un rapporto con un regista? Sconsiglio di piazzarvi sotto casa sua o di spammare la sua mail se per caso ne venite in possesso con tonnellate di materiale. E' piuttosto invece meglio che il rapporto con un regista sia basato su un qualcosa di personale e quindi se è difficile instaurare un rapporto con un regista già in carriera andate a cercare un regista dalla pianta. Cioè andate nelle scuole di cinematografia e instaurate lì dei rapporti con dei registi, dei futuri registi evidentemente, con i quali un domani potreste collaborare. Pure lavorate con un regista teatrale, certo che la musica che si scrive per un film o la musica per immagini in generale è molto diversa dalla musica che si fa in teatro, ma ciò non toglie che i mood siano gli stessi, se dovete cioè scrivere un pezzo per una situazione triste, per una scena d'amore, per una situazione comica, per una situazione pericolosa, più o meno il linguaggio sarà simile, poi sarà diversa la maniera in cui si svilupperà il pezzo, ma un mood è un mood. Poi vi consiglio di frequentare dei festival di corti, quella è un'ottima occasione per conoscere i registi giovani, generalmente è insolito che un regista in carriera faccia un corto, a volte può succedere ma tendenzialmente il corto è proprio la forma tipica dei registi alle prime armi, per una ragione molto semplice, che costa molto meno di un medio metraggio o di un lungo metraggio, quindi per il regista sarà più facile trovare qualcuno che lo produca, e poi perché è più facile ovviamente confrontarsi con qualcosa di piccolo invece che qualcosa di grande e impegnativo. Con quanti più registi avete contatti, tanto più avrete possibilità che uno di questi registi faccia una certa carriera e che quindi vi porti a bordo dei suoi progetti. Quindi non siate monogami con i registi, anzi la promiscuità aiuterà la vostra carriera. Seconda figura a cui dovete mandare le vostre musiche, il produttore. Non sempre il produttore è interessato a avere a che fare con il musicista, spesso e volentieri proprio non ne vuole neanche sentire parlare, non ne vuole neanche vedere in faccia, non gli ne frega niente, anche perché ricordate che il compositore arriva nell'ultima fase del film, quando tutte le energie sono comunque state spese e spesso anche tutto il budget. Quindi il produttore molte volte col compositore ha un rapporto molto veloce e abbastanza sbrigativo. Ciò non toglie tuttavia che molte volte il produttore abbia su quel film o su quel progetto un focus particolare e tenga particolarmente alla musica. È raro ma può succedere. Terza figura a cui dovete mandare le vostre musiche, i montatori. Il ruolo del montatore, che è sempre stato ovviamente fondamentale nel cinema o nelle arti visive in generale, ha assunto tanta più importanza con l'avvento del digitale. Voglio dire, i montatori hanno sempre appoggiato delle musiche al montato grezzo per far sentire al regista un mood, un'idea di quella che poteva essere la musica di quel film. Ma se questa operazione sull'analogico era comunque complicata, impiegava tempo ed era costosa, col digitale capite che è un'operazione che si fa in pochi secondi. Per cui il montatore ha a disposizione delle library sterminate, virtualmente tutto quello che è stato scritto, e può prendere i pezzi che vuole e montarli e spostarli in pochi secondi sulla scena. Questo pone l'annosa questione delle time tracks, ma di questo parleremo in un altro video. E proprio per questa funzione che ha il montatore, spesso e volentieri è il montatore stesso che suggerisce a un regista, soprattutto se ha le sue prime opere, il nome di un determinato compositore. La quarta figura a cui dovete mandare la vostra musica sono gli editori. Ovviamente le edizioni musicali in questi ultimi anni hanno avuto, è inutile nascondercelo, un grosso calo, come un grosso calo subito generalmente tutto il mondo del cinema. Quindi se fino a pochi anni fa c'erano anche dei piccoli editori, che curavano mediamente dei piccoli progetti, con la speranza poi di beccare il film che potesse esplodere, oggi questi piccoli editori hanno ridotto la loro attività quasi a zero. E quindi paradossalmente avrete più possibilità di trovare disponibilità da parte di un editore grosso che di uno piccolo. Ovviamente dipende dal progetto che gli proponete. Se proponete un progetto grosso è probabile che l'editore possa investire una somma di denaro per la realizzazione della colonna sonora. Se proponete un progetto piccolo... Ricordo quando molti anni fa andai da un grosso editore per propogli un progetto piccolo per cui volevo scrivere la colonna sonora. E lui mi disse, beh, quanto pensa che possa essere il budget per registrare questa colonna sonora? Io dissi, ma secondo me... E lui è troppo. Era una battuta naturalmente, però mi fece subito capire che, stante il progetto, che non era certo un progetto di grande respiro internazionale, non avrei potuto fare delle richieste troppo alte. Quinta figura a cui potete mandare la vostra musica. Gli agenti. Allora, in Italia praticamente non esistono agenzie che si occupano di compositori. Sì, alcune agenzie che si occupano di attori e di registi hanno qualche compositore nel proprio roster, però sono veramente poche. Cioè non toglie che... Provateci a mandare loro qualcosa. Basta fare una veloce ricerca su internet e saltano fuori. Se invece avete qualche ambizione in più e magari se avete già fatto qualcosa, e quindi non siete dei totali esordienti, provate magari con qualche agenzia estera. In Francia, in Inghilterra, ovviamente negli Stati Uniti, ci sono tante agenzie che si occupano di rappresentare compositori. Ma, l'ho già detto, lo ripeto, se siete esordienti totali o comunque compositori alle primissime armi, difficilmente prenderanno in considerazione la vostra candidatura, a meno che veramente quello che gli mandate non li colpisca veramente, veramente tanto. Sesta figura a cui potete mandare la vostra musica, i consulenti musicali. La figura del consulente musicale, che da molti è quasi misconosciuta, in realtà molto importante. Vero è che i consulenti musicali spesso e volentieri lavorano più per le televisioni, magari, che per il cinema. E quindi magari il produttore o regista televisivo, fanno al consulente musicale una richiesta di un mood, di un'atmosfera, di un qualcosa, e il consulente musicale fa delle proposte al regista o al produttore. Generalmente il consulente musicale tende ad attingere più da delle library di musica già edita, piuttosto che da musica completamente nuova. Ma in linea teorica, e per far conoscere il vostro nome, mandate anche musica ai consulenti musicali. Settima e ultima figura a cui dovete mandare la vostra musica, i music supervisor. Questa è una figura che in Italia ancora non ha tantissimo spazio, ma in America, per esempio, è una figura molto importante nel processo decisionale delle musiche. E music supervisor lavorano a tanti progetti, quindi se conoscono e apprezzano la vostra musica, potranno inserire la vostra musica nei progetti in cui stanno lavorando. Inoltre, mentre un consulente musicale, come ho detto prima, tenderà, diciamo, ad attingere a qualcosa di già scritto, il music supervisor spesso e volentieri cerca delle cose nuove, delle cose originali, perché soprattutto su un progetto cinematografico la musica originale può essere un valore aggiunto. Per cui, concludendo, giovani virgulti della musica applicata, non disperate, dateci dentro, non è un momento facile, sicuramente, per iniziare a fare questo lavoro, ma questa non è una buona ragione per non provarci in tutte le maniere. Ve ne ho elencate sette, sfruttatene qualcuna. Alla prossima!